Il Tribunale di Pesaro ha accolto questa mattina l'istanza presentata un anno fa dalla Onlus Gulliver che oggi ha ottenuto l'assoluzione dall'accusa di presunta raccolta di rifiuti non autorizzata relativa alla giornata del dono del 2020. Il presidente della Onlus Gulliver Andrea Boccanera è stato assolto per insussistenza di responsabilità nell'accaduto. La ditta Nicoletti incaricata sul territorio della raccolta di vestiti usati si rivolse infatti alla Procura della Repubblica denunciando la Gulliver per il mancato guadagno conseguente alla suddetta giornata del dono. Una giornata che prevedeva la presenza di volontari impegnati nella raccolta di indumenti usati da devolvere in beneficenza. Indumenti che secondo la ditta Nicoletti sarebbero altrimenti finiti nei cassonetti ad essa destinati. Da qui la richiesta di 15 mila euro di risarcimento danni di fatto non concessa. Il pronunciamento del Tribunale in data odierna è ammettere Andrea Boccanera al beneficio che aveva richiesto e cioè estinguere il reato mediante il pagamento di una mera sanzione amministrativa il che ovviamente inibisce ogni possibilità di risarcimento danni da parte della parte civile che si era costituita. Ovviamente si tratta di una valutazione che l'associazione Gulliver ha fatto per tempo. Questa richiesta è stata depositata ormai credo da un anno e mezzo per cui il Tribunale ha accolto questa richiesta che si fonda sul presupposto che non sussistessero conseguenze di nessun genere per il reato astrettamente commesso. Per cui sostanzialmente ha riconosciuto il Tribunale mediante questa ordinanza emessa in data odierna in favore del Boccanera che non ci sono conseguenze da reato, che Gulliver opera legittimamente per il contesto che è emerso in atti per cui a questo punto il pagamento della somma estinguerà il reato e quindi Andrea Boccanera uscirà incensurato così come è entrato in questo processo. Ne usciamo finalmente a testa alta, ne usciamo limpidi, puliti e è veramente una cosa bellissima questa mattina sentirsi assolti, sentirsi dire che non hai fatto niente, sentirsi come sei pulito e limpido. Razionalizzando le preziosi spese di volontariato la Gulliver ha deciso dunque per l'oblazione pagando la sanzione amministrativa senza dover affrontare i costi superiori che sarebbero derivati dal processo. Ovviamente l'associazione ha fatto una valutazione di opportunità che si fonda sul fatto che i costi del processo sarebbero stati molto più alti rispetto a questo costo minimo per la chiusura del procedimento in fase anticipata. Si tratta di soggetti che operano diciamo scrupolosamente sapendo che il patrimonio che gestiscono è un patrimonio che è finalizzato a diciamo tutelare gli interessi di soggetti deboli e quindi per questo hanno fatto una valutazione che ovviamente il giudice doveva validare come ha validato su presupposti di insussistenza di profili di responsabilità residui di nessun genere che però insomma si fondava su questa valutazione preliminare di non sperperare soldi per l'associazione e quindi insomma e di non affrontare nessun tipo di rischio. Boccanera e la Gulliver potranno dunque continuare senza intralcio le loro opere caritatevoli per una vittoria sintomatica per un intero mondo del volontariato. Questo è un attacco diciamo anche nazionale perché altri amici e altre associazioni di nord Italia anche del centro sono attaccati da chi mette in dubbio l'onestà e la limpezza della loro attività quindi questo oggi è un ribadire che ripeto ne usciamo puliti, il gruppo ne esce pulito, il mondo volentrato ne esce pulito e a testa alta.